A questa giornata siamo arrivati bene, nel senso che vedo una grande partecipazione, un grande affetto per i ragazzi, è una pariglia molto stimata, è una pariglia capace e quindi ci aspettiamo cose belle, perché se le sanno fare hanno un buon ritorno da parte sia dei cavalieri che della popolazione. La presenza dei gremi e di questa manifestazione in qualche modo aiuta l'economia della città, dovrebbe essere nei nostri pensieri e tra i nostri doveri quello di cercare di ampliare un pochino la partecipazione anche verso l'esterno, cercando di creare un indotto ancora più importante di quello che c'è. Qui si esaurisce tutto in tre giorni e una settimana, se riuscissimo in qualche modo ad allargare e estendere la cosa della città, la città potrebbe godere i risultati di questo. La valenza storica la conosciamo tutti e non per i delingarsi, la valenza sociale anche, ma se riuscissimo a tutto questo ad associare un risultato economico un pochino più rilevante per la città non sarebbe male. Un auspicio per il suo capocorsa? L'auspicio può essere solo quello che prenda la stella sia con la spada che con il suo stocco. Io ci conto, poi quello che sarà sarà. È bravo.